ciao siamo qui in compagnia di cedric mimoni di elettronica arts che ci racconta di fifa 2012 ciao buongiorno cosa ci puoi dire di questo gioco le principali novità allora quest'anno il gioco è uscito il 30 settembre disponibile per tutte le console e quest'anno ha introdotto tutta una serie di novità tra cui un motore di collisione tra i giocatori che si chiama player impact engine quindi il motore che regola tutte le collisione tra i calciatori e che permette di creare tutte delle situazioni assolutamente simulative assolutamente nuove e visto che il calcio è fatto di impatti tra calciatori questo da tutta una varietà una vastità di nuove situazioni di gioco quindi questo è l'innovazione sostanziale di quest'anno che ha poi impatto anche se tutta la difesa di conseguenza prima la difesa era se vogliamo un po più frenetica quest'anno abbiamo trovato tutto un nuovo sistema che si chiama tactical defending che schiacciando il tasto del pressing dell'anno scorso il giocatore va in contenimento e non più in pressing di conseguenza c'è tutto un nuovo metodo di difesa che rende il gioco molto meno frenetico e molto più simulativo e molto più divertente ti ringrazio molto grazie